Luisa Francesca Proto, l'associazione Un Ponte nel Vento si occupa del recupero di ragazzi tra i 14 e i 18 anni per limitare la loro dispersione scolastica e gli effetti che ne deriverebbero. Quali sono le attività che svolgete? Noi dal 2009 ci occupiamo di adolescenza e di disabilità mentale. Negli anni ci siamo sempre più impegnati però con l'adolescenza, che è questo momento di passaggio importantissimo alla base dell'adulto che saremo, che sarà. Nello specifico ci occupiamo di dispersione scolastica e povertà educativa all'interno del progetto A Scuola per Mare finanziato da impresa sociale con i bambini, capofila all'associazione dei tetragonauti che sta concludendo la sua seconda annualità e andrà ancora al 2023 come anno di intervento. Intanto io voglio ringraziarvi per questo momento di visibilità che è importante non tanto o non solo per Un Ponte nel Vento che è questa associazione che ha sede nella comune di Casa Micciola, ma è importante per mostrare un lavoro che dal 1993 l'Unione Italiana Vela Selidale porta avanti utilizzando la barca e la navigazione a vela come strumenti per vedere le persone, per permettere alle persone di conoscere se stesse e conoscere il prossimo, per dare gli strumenti per affrontare quelle che sono le relazioni umane capendo quelle che sono le emozioni, le parti di noi che intervengono in ogni scambio con l'altro. La barca da questo punto di vista è uno strumento eccezionale perché si è in pochi, in un guscio che ci contiene in mezzo al mare che non è il nostro ambiente e la navigazione a vela e lenta richiede collaborazione, richiede armonia tra le persone e la cosa più importante è proprio il viaggio, non è tanto importante dove arriveremo, ma il tempo che noi passiamo insieme. Il fenomeno del bullismo, della prepotenza che sta raggiungendo nella nostra società dei livelli sempre più alti è uno dei tanti segni del malessere che caratterizza la nostra società e l'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 2018 ha lanciato un vero e proprio SOS perché si è verificato che il 73% degli adolescenti tra i 14 e i 16 anni già presentano segni di malessere con forme in particolare depressive, ma non solo, che entrano nella soglia della clinica, per cui stiamo arrivando, siamo in un momento in cui in giovane età il mal di vivere, la fatica di vivere è già presente. Il bullo che è facilmente chiaramente condannabile antipatico, è chiaramente deprecabile, si tende sempre giustamente a proteggere la vittima, però è un ragazzo, che è una ragazza che ha ferite interiori, che ha una mancata capacità di empatia, di capacità di entrare in contatto con le emozioni proprie e con quelle dell'altro. Il problema dell'adolescenza in questa nostra epoca è sicuramente dovuto a una iperstimolazione che i nostri ragazzi ricevono dai social, da internet, dall'impegno scolastico con sempre più nozioni da imparare e che impegna sempre la parte più razionale del nostro cervello. C'è sempre meno cura e attenzione nei confronti di quelle che sono le emozioni, le fragilità, si rifugge dalla fragilità e questo riguarda anche gli adulti, però parlando degli adolescenti che sono la cosa più preziosa che abbiamo perché sono i nostri futuri adulti, sono il nostro futuro, c'è bisogno veramente di recuperare dei momenti di incontro, di cura della persona, della sua totalità. La persona non è fatta soltanto di razionalità, è fatta di mente, è fatta di emozioni, di cuore, di sensazioni e noi non siamo abituati nella nostra società a vedere la persona nella sua interezza. C'è un detto africano che dice che per crescere un bambino serve un villaggio, no? Mai, come questo è vero, nell'età dell'adolescenza in cui i ragazzi fisiologicamente tendono a abbandonare la famiglia, a uscire dalla famiglia, a cercare la propria immagine fuori nel sociale, con gli amici e la famiglia è sempre più isolata, sola, sempre più incapace di tenere ferma la corda che loro tirano, perché è un tiro la fune quello che viene in questa società, in quell'età, cioè, e mai come oggi manca il villaggio. La scuola è l'unica istituzione che si trova ad avere contatto con i ragazzi per tante ore al giorno e a dover fronteggiare l'emergenza alle 360 gradi, non essendo neanche tenuta a doverlo fare, non avendo necessariamente gli strumenti per doverlo fare.